Prende velocità, lo stacco, rimasta lontano, Rublet Go, la rottura di Reginella Fraset, va davanti Romeo da Pisa, su Rajat Petral, Ruben Riff, Rustica Jet, largo risale Renato Roby, prova a seguirlo Radam e Serral, poi rispetto P, Real Thing e infine Rublet Go. Quattordici il lancio, Romeo in vantaggio alla chiusura dei 400 in 30 scarso, alle sue spalle Rajat su Ruben, Rustica, Renato Allargo, Radamès, rispetto Real Thing, a fila indiana dopo 600 metri, percorsi in 45. Romeo in vantaggio, Rajat di rincalzo su Ruben Riff e Rustica Jet, poi Radamès che prova a risalire, Rajat sposta dopo 800 in un minuto. Va ad incalzare Romeo da Pisa che reagisce aumentando la cadenza, più indietro Ruben Griff, il passaggio al primo chilometro intorno all'1.15 scarso, Romeo Rajat di rincalzo. Poi Ruben Radamès a largo, di dentro Rustica, rispetto in terza, seguito da Real Thing, ma sembra aver rubato il tempo, Romeo da Pisa. Il nettissimo vantaggio a 400 alla conclusione dopo 1.200 in 1.29, la retta di arrivo, Romeo in nettissimo vantaggio, Rajat Petral che insegue, poi Ruben Griff a centrofista, Real Thing. Romeo da Pisa al comando, Rajat che insegue, poi rispetto e Real Thing. Romeo al comando, si avvicina, Rajat Petral, Romeo che si difende, stringe i denti, Romeo, Rajat guadagna qualcosa sul palo, si salva Romeo da Rajat. Poi Real Thing rispetto a P, Ruben Griff. Due minuti scarsi, 1.59, 1.59 sul mio cronometro, qui nella media intorno all'1.14.9, qualcosa del genere. Il successo per Romeo da Pisa e Massimo Barbini.